Ci sono sconfitte e sconfitte. Quella che la Dolomiti Bellunesi subisce contro l'Arzignano nella terza giornata della Serie D è ben diversa dal precedente KO per mano della Luparense. Al cospetto di una delle grandi favorite alla vittoria del campionato, i Dolomiti ci vanno vicini ad un punto in condizioni difficili, considerata la doppia inferiorità numerica. Ripercorrendo comunque con ordine i 90 minuti, c'è da dire che dopo un buon inizio prendono campo i Vicentini, che al ventinovesimo passano sugli sviluppi di un'azione avvolgente, concluse in rete da Pasqualino. A complicare le cose ci pensa il secondo giallo sventolato a peggi quattro minuti dopo, e così l'operazione rimonta, si fa sempre più difficile. L'ingresso ad inizio ripresa di Posocco aumenta però l'avverbo offensiva della Dolomiti, e quasi subito l'esterno si guadagna un rigore, trasformato da Corbanese. Al cinquantaquattresimo altro episodio chiave con un tocco neppure chissà quanto esagerato di Onescu in area di rigore. Penalty discutibile, ma a sorprendere tutti è il rosso diretto al centrocampista. Dagli 11 metri trasforma Moras. Sembra finita considerando lo svantaggio e la doppia espulsione, invece ha trazione di Posocco e il capitano Corbanese proprio non sbaglia davanti alla porta. A quel punto grande attenzione alla fase difensiva e i rischi corsi in effetti sono davvero pochi. Ma all'ottantanovesimo, un colpo di testa di Bigolin su azione d'angolo, regala l'ormai insperato successo all'Arzignano. A fine partita ecco l'orgoglio del tecnico Renato Lauria. Bellissima prestazione dei ragazzi, fare non so quanti minuti in nove contro undici e tra l'altro non subire neanche ti importa. Rarissimi ragazzi si meritavano molto di più, ma andiamo avanti serenissimi e questo è un grandissimo gruppo. Domenica la Dolomiti Bellunesi avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Cattolica. La sfida però sarà quasi certamente rinviata a causa della convocazione nazionale di San Marino di due calciatori della formazione romagnola. Prossimo impegno per la squadra bellunese quindi o sabato 16 o domenica 17 in casa contro l'Este.